Grazie Grosten! Allora, vediamo cosa ci dice il reddit, grazie per ogni... Cosa ci dice il reddit? Cioè, ma manda su un bacillino, raga, è la prima cosa! No, lo faccio sempre! Chi è il pagliaccio? Chi è il pagliaccio? Chi è il pagliaccio? Il pagliaccio è il 2003, che più non mi ha balzato. Ma vi pare? Eh, mi inventi già più, giusto? Sì, sì. Ma vi pare che sono stata... Da un 2003! Che è un buonazzo, per carità! Ok. Eh, a volte va così, a volte va così. Ok. Va bene, va bene, va bene. Non te la prendere, non te la prendere. Va bene, va bene. Bene. Va bene. Ciao maestro Omiatol, sono Panna, il tuo nuovo incubo che deciderà cosa dovrai fare in questo canale. Primo, devi invitare quello del mio viaggio a New York. Secondo, end-out per favore F in chat, grazie. Terzo, Twitch Royal, vogliamo il popolo sovrano. Ok, Panna. Grazie. Cos'è che ha scritto, cos'è? Cioè... Oh, sono un bacillino, ragazzi. Grazie, cocche. No, lo faccio sempre. Sai tu che non mi cagli. Chi è il pagliaccio? Chi è il pagliaccio? Chi è il pagliaccio? Io. Il pagliaccio è il 2003 che più non mi ha balzato. Ma vi pare? Tocchetti la testa se ti piace, Omi. Grazie, cocche, per i 400 quiz, grazie mille. Ma vi pare che sono stata... Da un 2003... Oh! Ebbè, è una buona notizia. Grazie, Tangi di Pollo. Tutti in piedi, punto mano, sul petto, punto in alto i cuori. Sta per iniziare la stream di Omi et all. Grazie. Ah, no, ok, senza nessuna canzone. Grazie, Leno. Ma poi proprio quella maglia messa male, tutto. Perché alcune persone benestanti si vestono come i barboni? In realtà non posterò alcuna foto, ma uno dei miei amicini si veste ed è praticamente identico a Richard alla Silicon Valley. Guarda la caviglia con la ciabatta. Ma chi è questo, Zarkerberg? Eh... sì, penso. È Marcone, Marcone. È Zarkerberg? È un collega, un collega miliardario. Scacco matto, amici, che non vi piace come io mi debba vestire. 10 regole per fare una diretta social di successo 2. Scegli la fotocamera giusta per il tuo budget 3. Prepara una scaletta ma non seguirla del tutto 9. Pensa all'orario di trasmissione vanno bene le 23. Pensa all'orario di trasmissione vanno bene le 23.